Se volete servire le grandi case e plasmare il flusso del potere, dovete prima esercitare il potere su voi stessi. Più la nostra sorrellanza acquista influenza, più nemici ci facciamo. Con tempo prendevi sul serio le mie opinioni, invece di permettere a quelle streghe di corteggiarti. La sorrellanza si nasconde tra le vostre fila e manipola i pensieri. Le nostre mani sono sulle leve del potere, ma la nostra presa è ancora debole. Sto cercando di proteggere l'Imperium. No! No! È necessario fare dei sacrifici. No!